Il 201esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La Chiesa ricorda Santa Giusta. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Giusta e Giustina. Il nome ha origine latina e significa onesta, rispettosa della legge. Il numero a portafortuna è il 2, il colore è il bianco e la pietra associata è il diamante. Accadde oggi. Il 19 luglio del 1992 a Palermo, a pochi mesi dalla strage di Capaci, viene ucciso in via d'Amelio dalla mafia il procuratore della Repubblica Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta, Emanuela Loi, prima donna della Polizia di Stato caduta in servizio, Agostino Catalano, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina e Claudio Traina. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 19 luglio ricordiamo il regista americano Abel Ferrara e il musicista inglese e chitarrista dei Queen Brian May. La citazione del giorno. È naturale ammirare più le cose nuove che le grandi. Lucio Anneo Seneca. Dice il saggio. Meglio avere un leone a capo di un esercito di pecore che una pecora a capo di un esercito di leoni. Il bel paese. Il Palazzo delle Terme Berzieri, a Salso Maggiore Terme, è uno splendido edificio considerato un esempio unico di art deco termale. Nel suo complesso presenta tratti stilistici derivati dal Liberty, dall'arte orientale siamese e dall'art deco viennese. Le decorazioni coprono ogni elemento delle facciate, rivestite da marmi bianchi, gialli e rossi, mosaici, maioliche, sculture, vetrate dipinte e colonne scanalate. Gli interni sono caratterizzati dalla stessa ricchezza ornamentale. Grazie. Grazie.